Sì, è stata una bella partita, abbiamo lottato su tutti i punti di vista, sia caratteriale che tecnico, abbiamo fatto una buona partita e siamo riusciti a sbloccare subito il risultato con uno, due, tre gol addirittura, è arrivato il mio primo gol tra professionisti, sono contento che sia arrivato con questa squadra e con questo gruppo, speriamo che ora è un punto di partenza, non bisogna fermarci e bisogna continuare su questa strada. Fisicamente ancora devo lavorare, come dice il mister, autonomia 10 minuti, però si cerca di lavorare al meglio, ora era la settimana di Luca, sono stato fermo anche per via del ginocchio, per quella botta, quindi questa partita l'ho accusata maggiormente dal punto di vista fisico. Beh, è cambiato, credo, soprattutto a livello mentale, caratteriale, abbiamo voluto a tutti i costi la vittoria, siamo partiti bene, è cambiato anche l'atteggiamento nel secondo tempo, perché uscire senza prendere gol è un'alta grossa soddisfazione, quindi sono cambiate, credo, vari punti che possono essere a vantaggio nostro per le future partite. Certo, si cercherà di ripetere la prestazione e di portare a casa la vittoria facendo il massimo come abbiamo fatto oggi. Certo, è fondamentale, soprattutto fuori casa e come ho già detto noi daremo il massimo, perché il gruppo se lo merita, è un gruppo che lavora mattina, pomeriggio, sera, ci diamo tutti da fare per portare a casa il risultato il sabato. Noi daremo sicuramente il massimo per raggiungere l'obiettivo. Sì, io mi trovo bene nel ruolo di trequartista, forse prediligo meglio la mezzala, però il mister mi ha detto vai dove ti pare, basta prendi palla, giochi con i compagni e fai la sua partita. Io ho seguito un po' i suoi consigli e è andata bene, via.